Questa è la diretta, questa è la diretta. Per chi viene o ti odia, racconta, ma che cazzo me ne frega a me, ma che cazzo me ne frega. Gali è un altro, ah, poi ti bannerò perché non voglio più sentire, parlare di queste cose. Gali è un altro che non ha senso, perché sei fuori tema, è fuori tema. Bisogna stare nel tema, bimbo, ricordi che puoi fare il tema più bello, parlare del buon, ma se sei fuori tema, il tema non è l'argomento che dici tu. Tema è un altro, Gali è un altro che non ha senso. Red ha mandato cinque volte lo stesso messaggio, è possibile che non l'hai visto. è inutile che scrivi, ho mandato lo stesso messaggio due volte, mandalo, cazzo, porca troia. Cioè, ma stai rincognito, eppure sei sui media da tanto tempo. Continui a scrivere, ho mandato lo stesso messaggio, io li leggo tutti e non è arrivato. Invece di scrivere due volte, ho mandato, ho letto due volte, mandalo il messaggio, cazzo. Anche Ian Signore non ha detto.